Era una partitella come quelle che fai quasi a fine allenamento praticamente e ci furono due entrate, due o tre entrate di Onievo e alla quarta Ibra si difese però poi venne fuori in parapiglia generale, mi ricordo se 7 o 8 a cercare di dividere ma era veramente dura, sono due animali bestioni così è difficile.